Il professor Vincenzo Salini, responsabile dell'area sanitaria del Fino Pescara, è qui a Buario. Come ha trovato i ragazzi? Io ho assistito all'ultima parte dell'allenamento mattutino, mi sembra che tutti siano arruolati, a parte qualche piccolo fastidio tipico nelle fasi di preparazione, ma per il momento, ringraziando Dio, non abbiamo ancora nessun problema importante. Quindi i suoi collaboratori hanno lavorato bene in queste settimane? I miei collaboratori lavorano sempre bene, li ho scelti per questo. Per quanto riguarda Brugman e Milicevic, quali sono le novità? Brugman e Milicevic sono in fase di recupero dall'infortunio dopo l'intervento. Brugman si sta riabilitando in Uruguay, ci ha chiesto di potersi riabilitare in Uruguay dal fisioterapista della Nazionale Uruguayana e penso fine ottobre dovrebbe rientrare in Italia per poi proseguire l'ultima fase e contiamo di averlo, se non subito prima o subito dopo la sosta. Mentre Milicevic si sta allenando in Abruzzo, in una struttura di alba adriatica, è in fase più avanzata di recupero e contiamo di averlo prima di Gaston, speriamo, per la fine di settembre. Invece come stanno i nuovi arrivi? I nuovi arrivi ho potuto conoscere non tutti, ho conosciuto soltanto alcuni, però mi sembra che siano tutti in buone condizioni, anche qualcuno dell'anno scorso l'ho visto particolarmente attento e particolarmente in forma.